salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi vi porto sul canale la prova del nuovo dgi mini 2 con i filtri nd della pigitec gli stessi che usavo sulla versione 1 di questo mini quindi i filtri sono compatibili al 100% questi poi della pigitec sono secondo me ottimi rapporto qualità prezzo però quali proveremo in versione 4k 30 fps mentre fino adesso abbiamo visti su la versione precedente di questo mini quindi a 2,7k quali proviamo invece in 4k 30 fps poi facciamo foto in jpeg e rove quindi avremo sia il video che le foto in jpeg così come le riprende il drone senza correzione né niente mentre le foto rove faremo da color correction quindi faremo una valutazione di tutto sempre utilizzando questi filtri secondo me spettacolari della pigitec quindi ragazzi direi di non perdere l'altro tempo e partiamo in questo cinematic video location semplicissima qua nei campi intorno a casa mia anche perché non posso andare muovermi più di così quindi ragazzi partiamo in questo cinematic video con i filtri pigitec su questo dji mini 2 in 4k 30 fps e adesso e adesso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti